È scomparsa la cavità a scellare, l'ascella non ha più la sua cavità, si è riempita. Esatto, non riesco più a sollevare il braccio perché non ha la forma adatta. Immagino quanto sia sconfortante per te, lo è per me già solo a guardarla. Quindi sei stata da vari dottori che hanno detto solo quello che mi hai raccontato e cioè... Che non c'è cura e che non mi resta che andare all'ospedale quando una protuberanza si infiamma. Ovviamente.